A Milano presso il Dipartimento di Farmacologia dell'Università degli Studi si è svolto un interessante incontro sull'impatto farmacologico e farmaco-economico delle nuove terapie in arrivo contro l'epatite C. Parliamo di questi aspetti soprattutto di quelli farmaco-economici col professor Mantovani, un vero esperto di farmaco-economia e HTA. Professor Mantovani, quali elementi bisogna considerare quando si fa una valutazione farmaco-economica dell'epatite C? Quali sono gli elementi di costo e gli elementi clinici che poi influiscono sui costi, che vanno valutati? Attualmente soprattutto i costi delle sequele e quindi i costi della cirrosi, del carcinoma epatico, dell'epatocarcinoma e del trapianto di fegato. Abbiamo condotto e stiamo pubblicando uno studio che si chiama Come, costo delle malattie epatiche con Epac Onlus, che è un'associazione di pazienti specifica per l'epatite C, con due centri, Bergamo e Napoli, circa mille pazienti. Abbiamo mostrato come in realtà la sequela dell'epatite C, quindi dicevo prima la cirrosi, l'epatocarcinoma e il trapianto di fegato, comportano a ogni insorgenza di sequela un raddoppio di costi e si passa da i soggetti che hanno solo l'infezione epatite C, intorno ai 250 euro mensili, ai circa 2.500. Ecco, questa è la situazione attuale che si basa come standard of care con interferone ribavirina. Ecco, cosa succederà in un domani abbastanza vicino quando avremo a disposizione Boceprivir e Telaprivir, questi farmaci che promettono di cambiare abbastanza radicalmente le prospettive di cura. Ecco, quali saranno i costi in più e i costi risparmiati grazie a questi farmaci? Attualmente questi farmaci credo che siano in corso di negoziazione in Italia e sono già stati valutati in altri contesti. In altri contesti hanno, mi riferisco al Regno Unito soprattutto, hanno un costo complessivo di terapia che è compreso fra i 16 e i 30 mila pounds per paziente. Quello che permettono di fare in virtù della loro efficacia è ridurre drasticamente la frequenza di pazienti che proseguono nel decorso della malattia, cioè che sviluppano appunto queste sequele. Quindi da un lato c'è l'investimento iniziale nella terapia farmacologica che però essendo efficace permette di impedire che il paziente vada incontro a un aumento di costi legato alla maggiore insorgenza di sequele, quindi si traduce in un risparmio, in un risparmio di costi diretti sanitari e in un risparmio anche di costi indiretti, quindi legati alla mortalità precoce e alla riduzione della capacità lavorativa dell'individuo. Questo dal lato dei costi ovviamente, poi c'è il lato degli effetti, nel senso che riducendo le sequele, che sono spesso rapidamente mortali, si migliora la quantità della vita, si migliora l'aspettativa di vita di questi pazienti e riducendo appunto le sequele che hanno anche un importante effetto negativo che abbiamo misurato sulla qualità di vita, si migliora la qualità di vita, quindi c'è un doppio vantaggio, ridurre la mortalità e migliorare la qualità da un lato e l'altro vantaggio è ridurre nel medio lungo periodo i costi diretti ed indiretti. Qual è il costo per QOLIS con questi farmaci? È già stato valutato? Sì, le agenzie internazionali hanno già valutato il NICE, lo Scottish Medicine Consortium, a seconda della tipologia del paziente e quindi del rischio di sviluppare queste sequele o della frequenza con cui si sviluppano, abbiamo un rapporto di costo per QOLIS compreso fra i 2.000 e gli 11.000 pounds per QOLIS che è considerato decisamente costo efficace, abbondantemente sotto la soglia. Là il costo è compreso fra i 16.000 e i 30.000 pounds, il costo della terapia e parte viene compensato proprio da ridurre le complicanze costose che sarebbero in sorte in assenza dell'efficacia di queste terapie. Superare l'esame del NICE o dello Scottish è sempre molto difficile, come è andata con questi due nuovi farmaci? Ripeto, mostrano un NICE favorevole, come ho appena ricordato e questo significa che nonostante la barriera sia probabilmente quella più alta da superare in questo momento, è stata superata tanto che queste terapie sono attualmente raccomandate sia nei pazienti naif sia nei pazienti cosiddetti esperienze.